Questo mi serve il filo per tagliare? Sì, adesso. Guardate un po' che cosa c'è qua. Argilla. Un bel di argilla. Ma scusate un attimino, ma che cosa vuol dire la parola argilla? Fango grido. No, terra. Terra. È terra. È della famiglia delle terre. E sembra. Anche ce n'è. Non lo so. Un calcio. 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 Non lo so. Un calcio. Quello mio. Giorgio. Ci sono i pigli che trovano. Che cosa ti fa venire in mente? Ma c'è un calcio. Eh, la sera sventa fino a domani. Wow, la pigli è grandissima. Dove va. Ma mamma. E cosa ti fa venire in mente? Il pane. Il pane. Il pane. Vediamo questa. E allora è perché non siamo... Oh mamma mia, non siamo allenati abbastanza. ecco. E allora pizzica forte. La forte deve fare. Pizzica. Non le avete mai date i pizzicotti a qualcuno? Eh, scommetto di sì. Io sì. Anche Gabriele che è pizzicata. Chissà quante volte avete pizzicato. Perché quando io le do un curo. E dai? Perché mia amichetta. Ah ah. Così guarda. Pizzica. E la pizzichi? Si sta in vero. Ecco. Così deve pizzicare amore. Così guarda. Pronti per un nuovo gioco? Sì. Però state sotterrando la povera Rosanna là voi. Le grandicelle. Adesso la prendiamo. Guardate. L'ha osservi. Ce l'ha detto? Sì. 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 Mettilo là. Guarda. Mettilo là. Che c'è lo spazio lì. Bellissimo. È bellissimo. È meraviglioso. Ma cosa è tutto questo che ci circonda? Cos'è? C'è? È ferro. No. È ferro. No. Il legno. Il legno. Il legno. Ma allora è la bottega di chi? Nel legno. Eh che lavora il legno. Il palegname. Il palegname. Il palegname. Il palegname. Andrà anche anche le figure. Guarda che bel Gesù. Di quale ciascuno sarà quel Gesù? Di vieni. Di vieni. Di vieni. Di vieni. Scalpelli con le capelli. Sono tutti attrezzi. Guarda. Andiamo a vedere gli attrezzi del palegname. Vediamo un po'. I attrezziatori del palegname. Ma come c'è il pezzo qua? E come c'è il pezzo? Guarda, stiamo facendo adesso questi, vedi? Questi stiamo restaurando. Vedi, le portano a pesce. Aspetta, però questa parola non l'abbiamo capita maestro, restaurando. Cosa vuol dire restaurare? Cosa vuol dire? Perché adesso entriamo e la nana Maria parla. Sei molto distratta, tesoro mio. Ehi, guardate, sta facendo un bel maccio di fiori qua. Che bello quello. Hai visto, meraviglia? Da completare però, vedi? Ciao! Ciao! Perché che dici ciao? Il cavallo! Non toccate i quadri e i bambini. Eh, non si tocca. Cosa dice queste meraviglie? Al futuro! È troppo qua, non si può, abbiamo toccato fino adesso. E basta, eh? Si guarda davanti. Si guarda e non si tocca. Allora, manine? Bravissima! Che roba bella! Manine? Bravissima! Io facevo tutti gli scenari, ho fatto proprio il teatro, il palco, ho fatto le fiabbe nelle aule. Vai di dietro! C'era il cappuccetto rosso! Ma, eh beh, ci sono ancora. Non mi sono andata a finire. Bravissima! Si ricorda? All'altro adesso ero il pinucchio e il cappuccetto rosso. Si, si, nell'avevo. Si, l'avevo fatto su masolite. Si, proprio così era. Si, è un po' compensato sembrava. Si, è un po' compensato sembrava. Si, ma sono in teatro. Ah, eh. Si, è un po' in teatro. Buona cosa so, per il pesce. E' un po' a dormire, a dormire, al metro a dormire, al metro a dormire, al metro a dormire, a dormire, ai minuscini, a dormire. Abbiamo fatto delle serie recite, la Santa Ciccina, ogni anno si faceva la recita. Abbiamo fatto delle serie recite, non si spinge, se noi spingiamo, rischiamo di cadere anche sulle opere del Maestro Enrico. Non toccate i bambini, si guarda, la bambina è così, vicino, dietro, bravissimi.